Stanno facendo il loro ingresso gli oltre 120 giovani artisti americani di Filadelfia, i Filadelfia Boys Choir and Porale, per un evento veramente intenso. Hanno portato un pezzo d'America nel cuore della Civita di Catania, le 100 voci bianche dei Filadelfia Boys, ospiti di Wondertime, la rasegna internazionale d'arte diffusa, con un concerto che si è svolto nella suggestiva cornice della Chiesa della Badia in via Vittorio Emanuele, con la direzione artistica di Giovanni Cultrera. Rinomati per la loro musicalità, intelligenza e capacità interpretativa, i Filadelfia Boys, vincitori di un Emmy e nominati per i Grammy, hanno raggiunto un grande successo in tutto il mondo per i loro concerti e spettacoli. Fondata nel 1968 e sotto la direzione di Jeffrey Smith dal 2004, la corale è stata ribattezzata ambasciatrice della canzone d'America e rappresenta con orgoglio la città di Filadelfia e gli Stati Uniti nei tour internazionali. America! 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 Si tratta di un gemellaggio internazionale fra Catania e Filadelfia, fra l'America e Catania, per un gemellaggio non solo geografico, ma di pensieri, di intenti, un coro eccezionale che vanta tantissime incisioni discografiche e tantissime tournée. Una tournée in Europa e qui abbiamo la fortuna, l'onore e il privilegio con il maestro Jeffrey Smith di averli protagonisti questa sera alla Chiesa dell'Abbadia di Sant'Agata per Wonder Tower. America! 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 God shed his grace on thee, and crown thy good with brotherhood. America! 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 America